Abbiamo il numero 56 che Francesco ci porta l'enigmista da Batman Indovina, indovinello Qual è il genere d'uomo ha i pipistrelli nel cervello? Ho piazzato delle bombe sotto tutta Gotham Per disinnescarle dovete semplicemente risolvere degli enigmi Mi afferri e mi strofini la testa, quel che rosso era, nero resta Nessuna risposta, è a vostro rischio e pericolo Il fiammifero, giusto, la prima bomba è stata disattivata Il giocatore non può partecipare però, scusami, sei mia alleata Cinque piccole cose di uso comune Ci trovi tutte in un campo da tennis Direi che questo è molto difficile, forse è il momento di fare scoppiare la bomba BOMBA! BOMBA! Un applauso! Oh, l'ha fatta scoppiare, nulla da dire Ballavano anche in regia BOMBA! 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 BOMBA!